Grazie a tutti ragazzi, qui vedete che vi parla E oggi siamo qua su Hearthstone di nuovo E come potete vedere ho perso la mia ultima partita in classificata Perché? E' la terza volta che provo a fare questo video qua Come potete vedere ho anche la missione da 100 E tre volte il Battle.net mi si è disconnesso Infatti è uscito un messaggio dalla Blithered Che dice che ci sono molti problemi col Battle.net Cristo lo so ma non puoi farmi perdere tre partite in fila in classificata Cioè ero al 17 e ora sono al 18 Cristo Vabbè Comunque oggi siamo qua E volevo annunciarvi che avevo intenzione di fare una serie In cui con i miei mazzi Che sono questi ma potrei farne anche altri Ho intenzione di provare a raggiungerla anche in agenda E probabilmente non ci metterò un mese ma ce ne metterò di più E vabbè comunque voglio provarci a farlo con voi insomma Oggi andremo a giocare con lo Zoo Molto aggro Con l'Heroe Jenkins montato su Fa abbastanza malino Si gira bene Ma anche se non gira bene Fa il suo devasto E quindi niente Speriamo che non crashi Perché se crashi mi incazzo Perché altrimenti se andare avanti così torna al 20 Ok Siamo contro Quello E speriamo che non sia un miracle Perché mi stanno su Contro ovviamente Perché il giocato è bellissimo No otteniamo quello E prendiamo Ok va bene Buona mano anche se potevo tenere il 2-1 Ok Andiamo tranquilli No eh Ah no ok Andiamo tranquilli così Adesso vediamo che mazzo è Ok non lo so Perché quello lì davvero Boh Necessi coltelli Non Io perché non posso Ok si E' tutto molto più lento Si vede che c'è qualche problema Dai fai arma Trade Vai face Dai lo sappiamo Oppure gioco Un drop 4 Una cosa buona Giusto Dai però Mi prego Dai E' matto veloce questo Non è che devi essere lento tuo Perché se io so veloce Madonna mia Ed è nato esattamente come ho detto E ci ho messo 20 No non attacca Davvero Beh ma io sono contento sai Dai il turno 4 Non è che devi pensare tanto Ok Ora preparazione Moneta 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 Ok Tanto quanto lo devo gioco Potrei entrare col gente Backstab Ok E vi scelto ok Può di trattarlo molto tranquillamente Facendo altro E va così Ok Esattamente Come volevo andasse Ora facciamo così Anzi L'ho giusto i coltelli Andiamo a poter Travolgendo questo Facciamo così Così non sprechiamo questo coltellino Che mai fa male E ok Si Madonna che mazzo strano What the fuck E' un pazzo questo Oddio 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 Stai scherzando E' un mill No Non ci voglio credere Ok Si Facciamo così Qui facciamo Fuck off Ok Se continuiamo qua va bene No non va lì Vabbè Andiamo dritti Abbiamo comunque una bella board Vabbè la vinta col mio caro vecchio zoo Praticamente dalla nuova espansione Che metto che ci abbiamo messo questo qua E il Cos'è Il Mi si chiama Si Sapo ok Il rituale Ok mi veniva Ok rifiuto le carte Si Va bene Va bene va bene Un'altra Doomguard Perfetto Peschiamo Trovo la gente Ok la tradiamo Ok la tradiamo No vado face Madonna si va dentro Perché dovevo andare face Anche con potete La voglia di andare a cazzo duro E andava tutto meglio Ah Madonna Cold blood ok Va bene va bene Va benissimo Ora Ok eccolo qua il rituale Ok Dante E andiamo dritti In faccia Perché face Is the fucking place Boom E ora non ha speranza A me che non giochi Rino Jackson Non ha speranza Ok Sto zittando Rino Jackson Sei di mana Tu torratene a poi Ora dai Trata con Xaril No What Pazzo Ok Blade Fury Non me l'aspettavo Sinceramente Trata tutto Eh va comunque Mi rimane uno Minchia ma sto strano Poi col Blade Fury Costo 4 Un po' Bam Panciato anche questo Ok Ok una vittoria Ora recuperiamo Quello che abbiamo perso Grazie agli errori Della blizzard Ok Mindyve Freed mage No sarà un tempo Mage come al solito Ok Cambiamo solo quello Sì dai Cambiamo solo quello Ehi questo Sì va Ok Due impiega in bosche Non ci sono tanto utili Madonna Dai si riuscione su lui Adesso Sembrava troppo bello Allora ecco Ecco il mercante Tocchiamo questa qua Perché comunque Gioca provocazioni Dopo con questo qua Non faccio una sega comunque Cazzo Ecco L'ho detto io L'ho detto Ah no Ok ci ha messo un po' nel culo Cazzo 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 Madonna se va lento E non è la mia linea Non è la mia linea Davvero Madonna mia Che brutta roba Che sto Dai voglio 18 imp Tutti qua No Sì va bene Va bene Madonna il suo telefono Scusate Ok un imp C'è tra l'altro E ci c'è al culo Giustamente L'imp C'è tra l'altro così Ok Noi ne chiamo un altro E basta C'era un know how E vabbè Ma Chris Come gli sta girando questo Stai scherzando Madonna mia Il coil è molto buono In questo caso Adesso Facciamo così Questo deve andare qua sicuro Deve andare anche questo qua Scusate Oh ottimo Ok va bene Dai Tornate in sesto La partita Dopo uno Può sento a darglielo Con questo E l'altro Sperando in Cristo Oh oggi Si è dato Orba Scusate Ok va bene E vai face Bravo Va bene Ok se si è rimanato uno Qua si è creato L'altra parte Allora 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 Provocazione Ma dai Facciamo così Così E così Siamo puliti La borda soli E lui ha perso E lui ha perso l'uno di vita Cioè Ha fatto molto più l'agro lui Però dai Non può avere tante carte adesso E boia questa proprio però È OP sta carta Cioè con 6 di mani Ho giocato Un 8 di body Praticamente Allora Allora Facciamo questo Allora Soulfire è la scelta più giusta Per me Perché Prendo soulfire Diamo Più 2 è questo Tradiamo questo Soulfire E questo Peccato Non ci dovete Non ci dovete Eliminare quello Non pesco Perché dopo sono sotto La fireball E rischio troppo Se almeno così Adesso proviamo un turno in più Vissi arcani No eh Madonna mia Madonna mia Siamo a 5 di vita Oh Ottimo 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 Si pesca un dart di gelo Però Non va a finire bene Dovemo trovare il modo Di ucciderci un tentacolino Per giocare a Doomguard Aspetta La fireball ovviamente ha vinto Va face No Cristo Non va bene Non va bene Non va affatto bene Ma perché Si è andato di gelo Si è andato davvero Troppo lento Madonna che schifo Ora si pesca un dart di gelo Ha vinto comunque E quindi è meglio pescare Let's was folly Eh beh lo so Però Non ho tanta speranza Altrimenti Sei morto lo stesso Lo sapevo Lo sapevo Eh vabbè Dai Una vinta Una persa Dai 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 Ragazzi Dovendo a tirare su Dovendo a vincere questa Ok Si incontro un ladro Un altro E Teniamo questo Ok Niant cat Stima Ok ok Madonna mia Che male Ok Adesso Questo Face Come al solito La gente è molto veloce Minchia se mi fa salire i nervi Oddio Repertition blade I drop bassi Oggi non mi escono proprio È vero È qualcosa di devastante Cioè C'ho 11 drop 1 E Bah Vabbè Ora ci deve essere il rituale Se va bene Altrimenti Vabbè Siamo il 3 danni face tranquilli Basta Fatti l'arma Tranquillo No ok Discover Mangiti pure il tutto Oh Ho scelto quello che dicevo io Perché gli altri però non crash Dai Cioè Cristo WTF Uh però No io ho the face Vaffanculo Se ha un eviscerate Muore Questo Ma comunque 5 danni face Se li ha beccati Quindi Tanta grazie a San Antonio Probabilmente ce l'avrà se ho giocato questo qua No Non ce l'ha È un pazzo così Ma va bene sai Ok Uh Ottimo 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 Facciamo così Così Min of Doom No ragazzi Oh l'ho anche andato Ottimo Impaggang boss Tradiamo così E fessa i danni Questa è abbastanza in tasca Questa è abbastanza in tasca Un potere trovo gente Abbiamo l'Ital Ma comunque siamo abbastanza vicini Dai non penso sia un re No mage Si potrà Prendiamo poi quel tentacolo Ok Ok no ce lo sappa Ce lo sappa Ce lo sappa Preparazione SEP Ah no Shadow Strike Ok Qui Van Cliff Rob Van Cliff Si Mi sta sorprendendo Allora ok Va bene Ma comunque bene Sa forti Andiamo dritti in faccia Abbiamo due Doomguard Però Sono improponibili da giocare insieme Quindi Una verrà scatata dall'altra sicuramente Al 100% Allora tra di qua Giusto? Ok Sprint Ok Dobbiamo ucciderlo Più presto eh Allora adesso Potremmo fare Si E speriamo Io ce la mandi buona No Ok Non ho ucciso la Doomguard Però va bene Due di vita Allora Bene o male un imp Ci rimane Quindi Rimane uno di vita Qui abbiamo 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 un cazzo Abbiamo Uuuuh Stare per fare un erroraccio Stare per fare un erroraccio Gli sarebbe costata la partita Porca boia No dai ha perso Dai Non può Con quattro di mano Non può pulirmi la board Cioè Proprio male un imp Rimane Che cotillion grandissima Ti mi faccio Ok Ok Ma potremmo usare Backstab qua sopra E provocazione Provocazione lo salverebbe Ok Due backstab Due backstab No ok Fan of knife Cazzo Swamp Use Porca boia Tanto non ce lo lascerà mai Proprio Poi piuttosto Mi lascio questo qua Con 5 di vita Ora questo qua Devo darlo Con questo e arma E poi quello lì Lì Cairn Ok Un enzot Sì Un enzot Ok Dobbiamo ucciderlo Minchè non avessimo usato Il Bane of Doom Porca troia Porca troia Proprio Ok Uh Dai Io credo in te Io credo in te Sì cazzo Sì Sì Fuck off Esplodi Ti sta bene così Hai avuto culo E vaffanculo Ti sta bene così Ok Una vinta Una persa E una vinta Tre vittorie Ok Almeno Siamo contenti così Siamo quasi tornati Al rank 17 Mannaggia la Blizzard Ehm Madonna Va bene È andata benissimo così Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Alla prossima volta Probabilmente vi porterò Al patron Molto probabilmente Vi porterò al patron Sì Mi va Mi va Mi va a portare il patron Mi piace Quindi se questo video vi è piaciuto Mettete un mi piace Iscrivetevi Lasciate un commento E ci vediamo al prossimo video Bella a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti